Gli aretini possono cominciare a prendere confidenza con il nuovo tunnel di via Baldaccio, un'opera destinata a rivoluzionare la circolazione cittadina. Il nuovo sottopasso collegherà infatti l'intera zona con viale Cittadini e Pescaiola. Si tratta della fase 1 dei lavori che dovrebbero portare nel giro di alcune settimane all'apertura del secondo tunnel tra via Baldaccio D'Anghiari, via Alessandro Dalborro e via Le Cittadini. Con l'apertura al transito del nuovo tunnel sono anche iniziate gli interventi finali nel vecchio tunnel con la contestuale chiusura. Dunque fino a mercoledì 31 gennaio autobici pedoni saranno deviati all'interno del cantiere del nuovo tunnel con obbligo di limite di velocità a 30 km orari e con la sola svolta a destra consentita. Soluzione pensata per permettere la realizzazione di una rampa provvisoria che verrà utilizzata dalle 18 del 31 gennaio sino a giovedì 29 febbraio dalle auto e dai mezzi sotto 35 quintali per svoltare anche a sinistra. Questo significa che né mezzi pesanti né autobus potranno percorrere la rampa perché eccessivamente ripida. Non ci saranno comunque fermate e soppresse, i mezzi di autolinee toscane cambieranno percorso. Dal 29 febbraio fino a venerdì 12 aprile poi entrambi i tunnel saranno percorribili con queste modalità. Chi è diretto verso via Cittadini userà il vecchio sottopasso per svoltare a sinistra, chi è diretto invece in via Alessandro Dalborro userà il nuovo per andare a destra. Le fasi lavorative dei prossimi mesi si articoleranno in tre momenti dopodiché si aprirà definitivamente la cosiddetta doppia canna.